Migliorare la qualità dei risultati a parità di controlli è l'obiettivo strategico della Guardia di Finanza, il cui comandante regionale Giuseppe Vicanolo ha tracciato un bilancio dei primi cinque mesi di attività del 2013 in Toscana, nel giorno del 239esimo anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle. L'evasione fiscale in aumento dall'inizio della crisi è stata al centro degli interventi, con l'individuazione di 68 milioni di euro accumulati illecitamente, di cui 43 già bloccati per recuperare le imposte vase. 268 le denunce, 12 gli arresti, soprattutto per frodi all'IVA e false fatture. 200 invece gli evasori totali, 475 le persone scoperte a lavorare in nero. Vogliamo affrontare questo impegno con la sensibilità necessaria per essere fermi nei confronti degli speculatori, di chi si arricchisce alle spalle dei cittadini, con azioni molto decise, e nello stesso tempo comprensivi con chi sta attraversando momenti di difficoltà a causa della crisi. Le Fiamme Gialle hanno anche accertato frodi ai danni di enti pubblici per 9 milioni e 300 mila euro, 140 finti poveri che hanno autocertificato redditi più bassi per ottenere contributi comunali ed esenzioni dai ticket sanitari. Sul fronte criminalità organizzata, nell'ambito di 216 inchieste, sono stati sequestrati 74 milioni di euro, mentre 14 sono stati confiscati in base al codice antimafia. 18 le persone denunciate per usura e 65 quelle per bancarotta fradolenta, di cui 14 sono in carcere.